ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video inutile dire che questa è anche la quarta volta che vi faccio vedere in faccia quindi e poi ragazzi potete notare che che poi potete notare che io sono anche in un ambiente diverso esatto ragazzi in effetti potete vedere che qui sono in un ambiente diverso in effetti non girerò questo video nella mia camera come sempre ma girerò ma lo girerò nella casa delle mie vacanze comunque molti di voi si staranno domandando ma Gaetano cosa ci parlerà in questo in questo quarto video dove ti farai vedere in faccia e me ne si ragazzi la risposta è semplice forse ragazzi molte persone che mi seguono o forse qualche nuovo iscritto che forse avrà visto qualche mio video sarà venuto a sapere appunto del trailer di destroy saurus che c'è stato qualche giorno fa anzi qualche mese fa e forse alcuni di voi non avranno tanto capito non avranno capito tanto da questo trailer perché hanno visto solo il titolo qualche disegnino sotto e non avranno capito niente non avranno visto nessuna scena e beh ragazzi io adesso vi parlerò appunto di questo trailer vi parlerò appunto di questo trailer che ho fatto io anzi vi parlerò anche di destroy saurus allora vi comincio a dire che se non volete spoiler sul film che dovrà uscire a marzo su Gaetano e sul canale dei rosa vi invito a chiudere il video se invece siete interessati a sentire l'argomento di cui tratterà il film allora continuate a guardare il video comunque destroy saurus allora ragazzi questo film sarà il primo film a fumetti di Gaetano e il suo canale dei rosa che non lo continuerò durante le vacanze perché ragazzi come sapete durante le vacanze se l'avete capito da qualche mio video in passato io in vacanza l'anno scorso non ho fatto nessun video ecco invece ragazzi quest'anno dato che il canale sta diventando molto famoso farò un video in vacanza così ragazzi vi lascerò godere questo paesaggio alle mie spalle ma invece ma qui invece stiamo parlando del trailer e parliamo del trailer comunque stavo dicendo che sarà il primo film a fumetti di Gaetano e il suo canale dei rosa e poi cos'altro questo film ragazzi sarà realizzato sarà a colori e vi giuro ragazzi secondo me dopo aver finito questo fumetto secondo me la maggior parte dei miei colori saranno tutti scarichi perché qui ragazzi in quest'opera veramente userò molto i miei colori sia per i personaggi sia per gli ambienti per tutto poi ci saranno le classiche nuvolette dei fumetti anche altre altre tante cose comunque lasciate che vi parli dell'opera allora la trama è questa nell'universo c'è un oggetto chiamato timone della fortuna questo oggetto rende qualsiasi creatura la più fortunata dell'intero universo tutti lo vogliono ma non sanno dove trovarlo fino al giorno che un veloci raptor di nome di nome victor insieme ai suoi amici non riuscirà a trovarlo e diventerà la creatura più fortunata dell'universo ma aspettate non è ancora qui in effetti il nostro victor non dovrà viaggiare in tre universi dovrà in effetti ragazzi l'opera si chiama destroy saurus perché loro distruggono alcuni universi quindi per questo l'ho chiamata così poi ci sarà anche una battaglia finale una battaglia finale al centro dell'universo ma dato che voi siete curiosi di questo film non vi vorrei spoilerare il tutto e quindi ah e poi ragazzi dovete sapere che ho disegnato tutto io colorato tutto io cioè ragazzi ho fatto tutto io da solo comunque ragazzi dovete sapere che questa cosa non la faccio solo per me non la faccio solo per me che mi piace disegnare ma la faccio anche per voi perché so che nel mio canale amate vedere i film le scene d'azione i combattimenti e per questo ragazzi lo farò solo per voi quindi ragazzi alla fine delle vacanze dovrò appunto ricominciare a fare questo fumetto dalla parte dove ho dove mi sono fermato e poi continuare se mi ricordo tutto a memoria comunque ragazzi il video di oggi finisce qui mi raccomando iscrivetevi a gettano sul canale dei rosa e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun video ah e per chi ragazzi non ha visto il trailer perché magari sarà un nuovo iscritto e e magari ha visto solo questo video vi invito a vedere il trailer del video precedente per capirne un più per poi vedere questo video comunque ragazzi noi ci vediamo un prossimo vi comunque ragazzi noi ci vediamo un prossimo video ciao